Il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, ufficializzerà la nuova giunta e rientro dal viaggio a Bruxelles. Ormai giochi sarebbero fatti o quasi, perché se è vero che è tutto pronto per l'ingresso nel Brucchi Quater del consigliere di Teramo, soprattutto Alfonso Di Sabatino Martina, con tanto di deleghe al bilancio e finanze e si parla anche dell'ufficio ricostruzione, quest'ultimo nonostante due notti di riflessioni non accetta di buon grado l'allargamento a nove in giunta. Sarebbe un problema di principio, oltre che di metodo. Dunque Brucchi parte per Bruxelles con ancora una situazione non definita. Con la giunta a nove, oltre alla sostituzione nella delega alla pubblica istruzione di Francesca Lucantoni con Caterina Provvisiero, dovrebbe entrare un altro componente di futuro in. Da qui si sa i mal di pancia di Dodo Di Sabatino. Ieri mattina un incontro a tre tra Paolo Gatti, Maurizio Brucchi e proprio Di Sabatino non è bastato a rassenerare gli animi. Il primo cittadino cercato di mediare prima della partenza a Dodo potrebbe accettare alla fine, dato che sul piatto della bilancia ci sarebbe anche una sua probabile investitura a sindaco. Insomma, altri due giorni per riflettere potrebbero aiutare. La partenza di Brucchi forse arriva al momento opportuno. Giovedì al ritorno del primo cittadino se ne saprà di più.